Il menù è la presentazione dell'offerta di un ristorante e rappresenta una specifica leva di marketing per le aziende ristorative. Il menù è un elemento critico di successo per un locale in quanto, così come lo stesso termine leva suggerisce, spinge il cliente verso l'acquisto. Oggi il menù, oltre ad essere la presentazione dell'offerta in un locale, ha uno specifico scopo. Deve aumentare la cosiddetta guest check, cioè la voglia di provare da parte del cliente, non essendo purtroppo possibile un contatto diretto tra il cliente e i piatti che sono da te proposti, come per esempio avviene in una pasticceria. Come affermo nel mio libro Ristoratori si nasce o, un menù ben comunicativo che evochi continuità con la filosofia e l'immagine del locale diventerà indubbiamente un buon strumento di vendita. Occorre chiedersi dunque a che tipo di clientela mi rivolgo, cosa voglio spingere e che immagine voglio dare del mio locale e naturalmente a quale prezzo. Buona giornata!